E' ora di ridare futuro ai giovani, partendo dal rilancio dell'università. Può essere questa la sintesi delle 12 proposte che i giovani di azione universitaria hanno consegnato questa mattina ai candidati di Fratelli d'Italia nella sala d'annunzio dell'hotel Carton a Pescara. Meritocrazia e borse di studio sono i punti cardine del programma, recepito in conferenza stampa da Fabio Roscani e Paola Frassinetti, candidati alla Camera rispettivamente come capolista per il proporzionale abruzzese e per l'uninominale in un collegio lombardo. Con una sorta di passaggio del testimone dai giovani meloniani ai candidati per le prossime politiche del 25 settembre, è stata ribadita l'importanza della formazione universitaria, che deve partire da basi uguali per tutti e agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro con una tempistica più europea, senza per questo mortificare la formazione stessa, con proposte che mirino ad aiutare gli studenti a contrastare l'abbandono degli studi universitari e a puntare sul diritto allo studio, ha sottolineato Paola Frassinetti, vicepresidente della settima commissione Camera dei Deputati e responsabile nazionale del Dipartimento Istruzione e Università di Fratelli d'Italia. Siamo pronti a puntare sulle borse di studio e a riformare i test di entrata che spesso remano contro la meritocrazia, ha aggiunto la Frassinetti, candidata di Fratelli d'Italia alla Camera nei collegi lombardi. È necessario partire dalle riforme universitarie per frenare la fuga di cervelli all'estero dei nostri ragazzi e cercare di ridare il futuro ai giovani del nostro paese, ha sottolineato anche Fabio Roscani, capolista per Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati nella lista del plurinominale e presidente nazionale dei giovani di Fratelli d'Italia. Per questo occorre prestare maggiore attenzione ai finanziamenti e alla ricerca, dando la possibilità ai nostri ragazzi di trovare soddisfazione in Italia perché è qui che abbiamo bisogno di forze fresche e dunque di giovani che si impegnano a migliorare il nostro paese.